bello a tutti ragazzi eccoci qua su gita 5 insieme a sadman siamo al colpo alla flica sopralluogo studiate le misure sicurezza alla flica bank della western highway highway poi passate a prendere page e delle attrezzature fa la fabbrica e tornate alla portamenta per pianificare il colpo sadman vai strada allora vediamo un po ma questo sarà una roba è solo un sopralluogo qua ragazzi ok sadman mi ha aperto sento un odore strano sadman allora io no hai messo un deodorante non profumatore di ambiente a un gusto sus no no aspetta ma questa è casa mia casa tua appunto cosa ci fa l'estero a casa mia scusa è perché gli si è rotto il bagno ha chiesto se poteva venire a sganciarla da te ecco dove vi la puzza vedi come si muove col di dietro lì è ancora che scorreggia ma quello forse perché vecchio e tra l'altro adesso ho scoperto che questo qua assomiglia a un tipo che conosco quello che non è zoppo lui però gli assomiglia a un botto vi faccio sì e anche un leggermente di fisico solo che ha meno capelli quello che conosco io ah bene questo comment sadman niente è finito qui il colpo c'è il no scusa il sopralluogo oh deve andare a questo schifo di macchina eh sono obbligati ma entra anche lui eh sì ok ma perché sai che non so se puoi allertare la polizia no non posso infatti però se sparo missi cioè se sparo razzi non ho allerto a nessuno non penso cioè se l'erto mi dissocio no vediamo io non le sparo neanche alle macchine eh è una bella tattica di utilizzare per sumo cosa è successo ma dai i fumogeni sadman ok non si possono usare perfetto esatto ma dai ma non ci credo ma non ho ucciso nessuno eh vabbè perché non ci fa fare via via come non ci fa fare via via vediamo no no vedi adesso ripartiamo da qua vedi vai ma e se voglio scegliere dietro con l'estero perché no 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 sadman ricomincio a 4 chilometri e 40 vai con quest'auto si sente com'è si sentono i 4 chilometri con quest'auto si fa schifo ma poi dico io l'estero no ti può dare i soldi se fai in colpo ma non può permettersi un'auto migliore di questo esatto ti dà milioni e non c'è un Ferrari una cosa cioè pure i vestiti ti dà milioni ogni volta non c'è niente eh ma lui no ma lui è bravo perché praticamente lui quando vende il cliente cioè tu magari fai un intermediario e gli dà tutto al cliente capito magari uno gli dice dammi dammi che ne so i diamanti di Caio Perico e lui cosa fa gli dice voglio ti do due milioni per i diamanti e lui ti dà due milioni a te quindi lui li tiene a zero capito? è molto molto altruisto bravo ed è il mio numero un bravo ragazzo si esatto però parla un po' troppo rispetto ottimo e vedi perché dovebbero aggiungere le frecce io ti giuro non mi ricordo se è GTA 3 o GTA 4 ricordate che dopo che adesso devi andare a sinistra destra e sinistra sinistra bravo non mi ricordo se è il 3 o il 4 che c'era la polizia che andava in giro quindi devi stare attento se andava in giro anche solo con la pistola in mano o con un'arma in mano e allora si hanno fatto bene togliere e no ti veniva una stella? appunto con un'arma in mano c'è un po' troppo e si perché tu non puoi nella realtà camminare con un'arma in mano con un bazooka in mano e mi dico su GTA devi e? su GTA devi e no devi stare attento anche a quello era una skill in più Sadman eh ma mo sì ma ti appariva nella minimappa che c'era il puntino blu eh mo sarebbe impossibile farlo giocare in questo modo ma come? eh sì con tutte le missioni colpi eccetera eccetera con i chidoni che devi sparare eh è cambiato vedi Sadman fleca bank eh non eh fleca adesso iscrive si dice ma non si iscrive ecco la capaforte 167 Sadman dov'è la 167? l'auto dissolta fuori se non è su se non attirare l'attenzione dei poliziotti eh poi una bank così così in un posto sperduto non so beh ha detto la verità in America ci sono ogni tanto delle banche così eh in America sì dove siamo? in America ci stanno da perdere tutto ma devo fare io? fare cosa? hackerare come devi hackerare? sì mi sta facendo hackerare? è vero è vero ti fa allenare per hackerare per il colpo capito? capito? sì ti allena così per il colpo sei pronto giustamente meglio così intanto che guidi io passo il tempo esatto da una porta ci stanno i viaggi tipo i passeggeri hanno potrebbero giocare esatto cioè non è che poi dipende a volte magari quando faccio le missioni online vado a fare il passeggero apposta perché la FK in quel caso lì è un po' un problema se ci fosse anche raggi da fare che poi nella vita reale gli hacker è vero si fanno così vero Sadban noi pensiamo che stanno lì a programmare tutto invece fatto perfetto io un po' meno perché manca ancora tipo due chilometri 1-6 l'estero 10k di danni alla macchina per fare 4 chilometri e 4 chilometri e lui parla 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 mi stai immaginato della vita reale perché tutto a posto e poi stavo facendo tutto questo per guadagnare noi esatto vabbè è altruista dai vogliono apprezzarla un po' un po' troppo però va bene così va bene va bene mi sa che ora dobbiamo portare la tizia bene 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 arrivo arrivo molto arrivo grazie Sadban è la tua gemella lì sorella vai davanti vai davanti salgo io dietro ma fuori non è giusto Sadban ma come non è giusto a parte che è tua sorella quindi non è no mi assomiglio ho detto step sorella ricordatelo ok carta bianca Sadban o il via libera attento la polizia non è successo niente oh ma che cacchio ma vedi che sei una freccia da destra va a sinistra ma vedi che sei una freccia su GTA cacchio tu non capis quando gli NPC vanno sinistra destra ma ugo ti resta un casino questo character lì come si chiama gran granger 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 ranger ranger di lora ranger no americane ranger ok ok un po' meno ok vabbè ci siamo ma che no dove siamo partiti noi però qui eh o si ma scusa ma in teoria parte a casa mia no ah si no se la mia casa era attaccata lì allora tipo ci mettevamo in mezzo il secondo e può essere è una è un fatto da mutare perché potrei comprare una nuova casa lì vicino solo per le emissioni che ricorpa la fleca il Leicester yes sir preparazione a vittoria ragazzi soldi vediamo quanto ci ha pagato vediamo quanto ci ha pagato 6.560 6.560 Sadman gli abbiamo fatto 20k eh ma te sì a me 6.560 con 10k di danni ottimo vabbè ma di ck di danni non si contano anche quelli sono soldi cos'è sta roba guarda lì Sadman che fulmine è temporale Sadman la tempesta perfetta si chiama ma tu guarda guarda è brutto tempo ora ho capito come si chiama sta qua page ecco page ah page è vero avevo detto e mi ero già dimenticato io e anche io io mica vi faccio caso a questi dettagli cos'è combinato si dai abbiamo capito parlo un po' troppo si è vero che noi non parliamo siamo zitti perché parla solo lui esatto bene bene ok ragazzi quindi questo primo colpo la flecca è sopra il luogo che è stato fatto molto difficilmente prossimo colpo sarà Kuruma ragazzi quindi io vi saluto come sempre ringraziamo Sadman che ci ha dato una mano quindi ragazzi come sempre commentate scrivetemi lasciatemi un mi piace e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video live ciao medici ciao 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 ciao